Spidi Pollo a Cava dei Tirreni è il luogo ideale per soddisfare tutti i gusti. Vi aspettiamo! Federico Gerardi e Antonio Natalucci sono due nuovi giocatori della Cavese. Le ufficializzazioni sono arrivate ieri sera, prima per l'esterno destro Natalucci e poi per il centravanti Gerardi. I due possono dunque essere a disposizione di mister Salvatore Campilongo per la gara interna programmata per dopodomani con il Bisceglie, una gara di fondamentale importanza soprattutto per i bianco-blu. Lo dicemmo già qualche settimana dietro che alla Cavese, per poter sperare di risolvere il problema del gol, sarebbe stato utile un centravanti d'area di rigore. Ed ecco che dal gubbio è arrivato proprio Federico Gerardi, classe 87, calciatore che negli ultimi anni ha migliorato la propria media gol annuale e ha imparato a farsi rispettare in area avversaria. Il centraattacco friulano ha firmato proprio ieri sera il contratto che ha validità fino al giugno 2022 ed è stato ufficializzato dalla Cavese dopo il deposito dei documenti, alle ore 23 passate. Gerardi nella scorsa stagione era nelle file del Rimini e in Campania aveva già giocato per la Salernitana Calcio in Serie B. Per quanto riguarda Antonio Natalucci, l'ufficialità era giunta già dopo le 19.30 di ieri. Esterno destro classe 2000, nato a Roma, ha scelto la Nazionale della Repubblica Dominicana per poter acquisire maggiore esperienza anche a livello internazionale. E il fatto che la madre sia originaria del paese caraibico ha dato a Natalucci questa possibilità. Il giocatore è stato ceduto alla Cavese dalla Triestina a titolo temporaneo, dopo che il Novara aveva interrotto il prestito qualche giorno addietro. Nella scorsa stagione Natalucci aveva giocato in D con il Nardò, poi arrivò il confinamento nazionale per l'emergenza con una virus. Dunque qualche rinforzo in più in entrata la Cavese ce l'ha, anche perché nelle prossime tre gare, compresse nello spazio di otto giorni, la squadra avrà bisogno di ricavare più punti possibili. Domenica c'è il Bisceglie a Lamberti, mercoledì il Bari allo stadio San Nicola e domenica 7 febbraio la Paganese a Cava. Meglio affrontare queste squadre potendo contare su una panchina lunga.